ciao e bentornato questo è un altro video della serie come si usano gli strumenti di excel professionale i tutorial che dimostrano come sono fatti e come si utilizzano gli strumenti che metto a disposizione e in questo video vediamo come si usa il rapporto giornaliero quello che stai guardando è il pannello di comando del rapporto giornaliero il rapporto giornaliero è un dimostrativo un piccolo strumento che ho messo a disposizione con cui tu puoi registrare le attività che svolgi durante la tua giornata sia in ambito lavorativo ma anche a livello personale naturalmente per tenere una registrazione precisa quanto tu desideri delle attività che svolgi in relazione per esempio a un determinato cliente piuttosto che a un determinato progetto piuttosto che a un tuo obiettivo personale ok e quindi fondamentalmente uno strumento che ti permette di poter registrare le tue attività la loro durata e poter consultare ciò che hai fatto durante la tua giornata e quanto tempo hai speso per farlo come fatto il rapporto giornaliero a questo strumento in realtà lo strumento è molto semplice e fondamentalmente gira attorno alla maschera di inserimento dei dati quindi delle attività che svolgi questo che stai guardando naturalmente è un pannello di comando per passare alle varie funzionalità troverai una serie di pulsanti sono quelli blu scuro e naturalmente ci sono dei pulsanti collegati a dell'automazione il pulsante aggiorna serve per aggiornare le tabelle in realtà ti anticipo che non è necessario utilizzarlo a meno di imprevisti non è necessario utilizzarlo perché ogni tabella ogni visualizzazione si aggiunge in automatico alla selezione ok full normal screen serve per passare dalla visualizzazione a pieno schermo alla visualizzazione standard e viceversa naturalmente ok quindi se lo clicchi una volta passi a pieno schermo se lo clicchi una seconda volta torni naturalmente alla visualizzazione standard di excel salve desci naturalmente ti permette di uscire con un clic salvando ok le altre funzionalità a nostra disposizione quali sono ebbene sono il rapporto cioè la maschera di inserimento la ricerca cioè una visualizzazione interattiva che ti permette di individuare un rapporto ben preciso i progetti e i clienti che sono due alternative alla ricerca cioè fondamentalmente sono delle visualizzazioni interattive che ti permettono di vedere le attività svolte ma per progetto o per cliente questo se naturalmente inserisci il nominativo del cliente o il nominativo del progetto all'interno del tuo rapporto che hai nell'attività che svolgi in relazione appunto al cliente o al rapporto e poi naturalmente c'è il foglio dei dati ecco partiamo dal foglio dei dati il foglio dei dati è una semplice tabella che contiene alcuni dati in realtà sono un esempio ok e ti permette diciamo così di consultare eventualmente i dati ma io ti invito a non consultarli direttamente qui a meno che non ci siano imprevisti o motivazioni diverse benissimo il rapporto non ha nient'altro che la maschera di inserimento è una maschera multi record come vedi c'è una tabella che ti dà la possibilità di inserire molte voci e ti anticipo subito che è una tabella dinamica la tabella in realtà adesso è predisposta per 25 mi pare registrazioni ma in realtà può essere ampliata semplicemente prendendo le estremità in fondo a destra come vedi il cursore cambia e trascinandolo verso il basso in questo modo questo naturalmente la amplierà potrai registrare quante attività tu vuoi nel tuo rapporto comunque questa è una maschera multi record e multifunzione multifunzione perché in realtà è equipaggiata con una serie di funzionalità e automazione aggiunta che naturalmente ti permettono di registrare i dati nella base dati che abbiamo visto poco fa naturalmente di richiamarli in modo semplice veloce ok potrò che di pulire la maschera in questo modo come vedi ho cancellato i dati della maschera posso naturalmente ricaricarvi come posso farlo naturalmente grazie ai controlli controlli che sono qui in alto nell'intestazione di questa pagina fondamentalmente sono dei pulsanti che adesso ti descriverò ma che in realtà sono descritte nelle istruzioni questo è il pulsante istruzioni cliccando lo fai comparire la scheda di istruzione riclicando naturalmente la fai scomparire ok i pulsanti freccia ti permettono di passare agli altri fogli invece i comandi a pulsante qui in basso ti permettono appunto di fare quello che è indicato indicato significa di caricare i dati questo pulsante quali dati quelli relativo a un rapporto ben preciso cioè se c'è un rapporto registrato tu puoi andare a inserire il nome o richiamarlo dal menu a tendina ok quale nome il nome della persona che svolge quelle attività naturalmente la data relativa ok e poi cliccando su carica questi dati vengono caricati quindi pulsante carica serve per caricare i dati non è l'unico modo tra un po ti mostrerò un altro modo il pulsante salva serve per salvare i dati naturalmente nella base dati ecco una cosa importante che il salvataggio sovrascrive il precedente se tu vai ad aggiungere nuove attività queste verranno aggiunte naturalmente se tu vai a rimuovere delle attività queste verranno rimosse ok devi prima richiamare il rapporto precedente che ti riguarda e poi andare ad aggiungere o a modificare naturalmente il rapporto in questione ok come si fa semplicemente per esempio possiamo scrivere preparazione preventivo invio ok dove naturalmente abbiamo una serie di luoghi che sono i luoghi che sono stati inseriti in precedenza fra cui tu puoi scegliere per esempio l'ufficio ok quando per esempio le 18 anzi dalle 18 alle 18 e 20 ok ecco è necessario che tu inserisca l'inizio alla fine no tu puoi tranquillamente inserire solamente la durata ok naturalmente puoi registrare le persone presenti con cui è svolta l'attività ok il cliente cioè se l'attività è destinato a un cliente ben preciso puoi inserire o selezionare dall'elenco se un cliente già presente appunto nelle registrazioni puoi selezionare il cliente che tu desideri se l'attività è svolta a un progetto ben preciso puoi inserire il nominativo del progetto di nuovo progetto in questo modo ok e poi e poi i risultati nel caso la tua attività abbia ottenuto dei risultati significativi ok dei risultati che vale la pena registrare sottolineare tu puoi naturalmente inserirli nel caso dell'invio del preventivo l'attività stessa indica il risultato il preventivo è stato inviato ok poi lo stato lo stato fondamentalmente riguarda quelle attività che durano nel tempo cioè quindi non è una micro attività che inizia e finisce ma un'attività che può iniziare fermarsi poi può essere ripresa eccetera eccetera anche in giorni differenti in quel caso vale la pena definire lo stato quindi in questo caso se vuoi registrare lo stato puoi indicare per esempio completata e poi la percentuale ecco la percentuale vale appunto per quelle attività macro attività che durano nel tempo quindi più ore spese appunto per realizzarli e poi naturalmente la maschera ti dà la possibilità di inserire un'eventuale nota preventivo in scadenza il 30 luglio ok in questo modo una volta che tu hai inserito la tua attività o le tue attività questo dipende come tu vuoi utilizzare questo strumento se vuoi inserire attività passo passo durante la tua giornata o comunque durante diciamo così attività che stai svolgendo piuttosto che inserirle a fine giornata ok bene quello che devi fare una volta che tu hai inserito i dati o il dato ok il record non devi fare nient'altro che cliccare su salva cliccando su salva compare questa finestra questo perché perché il programma ha verificato che c'è già un rapporto con quel nominativo e quella data già presente quindi ti chiede conferma prima di andare a sovrascrivere come ti dicevo poco fa lavora sovrascrivendo il precedente e quindi quindi ti invito a registrare aggiungendo i dati qui nella maschera se appunto c'è qualcun altro oppure se chiudi il programma e lo riapri se cancelli la maschera perché vuoi registri più rapporti allo stesso tempo lavori diversi oppure progetti differenti eccetera eccetera comunque devi richiamare i dati inserire i nuovi dati ok e poi cliccare su salva quindi naturalmente clicchiamo su sì e naturalmente abbiamo registrato i nostri dati compare questo messaggio di conferma rapporto inserito perfetto e se noi andiamo a cliccare su pulisce per cancellare di nuovo su carica come vedi abbiamo registrato le nostre attività la nostra nuova attività ok questo è il salvataggio per quanto riguarda invece il tasto elimina serve per eliminare naturalmente il rapporto che abbiamo visualizzato naturalmente l'eliminazione è definitiva quindi se noi clicchiamo su elimina ci chiederà una conferma sull'eliminazione se noi vogliamo eliminare clicchiamo su sì altrimenti clicchiamo su no il tasto pulisce l'abbiamo già visto e per quanto riguarda i tasti freccia ebbene fondamentalmente i tasti freccia servono per saltare in cima e in fondo alla nostra tabella quindi cliccando praticamente su freccia giù andiamo in fondo alla tabella cliccando su freccia su andiamo all'inizio della tabella ok e infine il tasto full screen qua in alto a destra è simile a quello del pannello di comando se clicco una volta mi permette di passare la modalità piano schermo se lo clicco naturalmente ritorniamo alla modalità standard di excel ancora due note da fare allora vediamo questi due numerini qui totale ore il totale ore ma nient'altro che la somma delle ore in formato decimale naturalmente che sono state inserite nel nostro rapporto quindi 43 minuti più 20 fa 63 minuti e lui lo rotonda naturalmente lo rotonda a 1,1 ore ok ecco come vedi c'è un numero rapporto qui a sinistra numero rapporto qui a destra il numero rapporto a destra questo ok è in realtà il numero nuovo del rapporto nuovo questo se stiamo inserendo un nuovo rapporto esempio il 25 7 2024 clicco su salva perfetto questi sono stati registrati con lo stesso nome naturalmente con un nuovo una nuova data e se io vado a caricarlo come vedi indica l'11 quindi il numero del rapporto qui a sinistra vicino alla data indica il numero del rapporto effettivo invece il numero rapporto a destra vicino al totale ore indica il nuovo numero il numero del rapporto nuovo che noi andremo inserire se non verrà trovato nessun rapporto con lo stesso nome la stessa data la funzionalità successiva è la funzionalità della ricerca questa questa che sembra una semplice tabella in realtà è una visualizzazione interattiva interattiva grazie naturalmente ai controlli predisposti in alto e a destra qui in alto e a destra ci permette di svolgere velocemente delle ricerche per individuare un rapporto ben preciso abbiamo visto che un rapporto è definito da un nominativo e una data per esempio il nominativo 1 e fondamentalmente una data come vedi qui a destra ci sono dei controlli sono slice naturalmente che ci permettono di selezionare l'anno il mese e il giorno quindi la ricerca è uno strumento interattivo che ti permette di individuare velocemente i rapporti quindi la lista delle attività relative a una data giornata di una data persona piuttosto praticamente che a un cliente specifico piuttosto che un progetto eccetera eccetera ti invita a utilizzarlo è molto comodo molto utile e appunto ti permette anche di richiamare quindi di caricare nella maschera i dati di un rapporto per poterli aggiornare ok e poi e poi ci sono le ultime due funzionalità quali sono queste funzionalità sono progetti clienti uno mostra l'avanzamento dei progetti che è molto simile alla visualizzazione della ricerca ok come vi diciamo gli stessi pulsanti molto simile sempre le istruzioni che ti invito a leggere naturalmente ti permette di caricare nello stesso modo del precedente i dati nella maschera quindi selezionare una cella cliccare su carica e questi verranno caricati naturalmente ci sono i filtri qui a destra e naturalmente ci sono i pulsanti aggiornare risetta filtri che puoi utilizzare quando servono in realtà il pulsante aggiorna non dovrebbe servire questo perché l'aggiornamento è automatico alla selezione della pagina ok mentre il pulsante risetta filtri ti permette di esitare con un clic che tutti i filtri e per quanto riguarda l'ultima funzionalità ebbene l'ultima funzionalità ti mostra le ore che sono state spese per un dato cliente ok quindi è diciamo così un resoconto non relativo ai progetti ma relativo ai clienti e come vedi fondamentalmente è simile alle precedenti funzionalità e funziona esattamente nello stesso modo questo è lo strumento rapporto giornaliero funzionale efficace efficiente soprattutto e io naturalmente ti invito a utilizzarlo ti invito a scaricarlo e utilizzarlo nelle tue attività personali o lavorative ok questo tutorial termina qui e io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video se è la prima volta che mi vedi ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it è un sito dedicato agli aspetti più avanzati di excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale e naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial